Costruisci una matita che si sospende a mezz'aria e può anche ruotare. Prendi un vecchio pezzo di gomma e pratica tre tagli. Inserisci una moneta in uno dei tre tagli. Inserisci due magneti a forma di anello in una matita. Ora inserisci i magneti anche nel pezzo di gomma. Il magnete anteriore della matita deve essere attratto dai magneti anteriori della struttura di gomma. Il magnete posteriore della matita deve essere respinto dai magneti posteriori della struttura. Ora allinea e sistema i magneti. I primi magneti attraggono il magnete anteriore. I magneti anteriori si respingono. Posiziona la matita e cerca di sospenderla. Per farlo dovresti spostare i magneti leggermente. Dai una spinta alla matita e continuerà a ruotare per un po' di tempo. Poi incolla una striscia di carta sulla matita. Incolla la spirale sulla matita. Questo amplificherà lo spin della matita. Questa magnifica matita ora ruota, lievita e scrive. Grazie! Grazie! Grazie a tutti